E' una delle proposte che io domani cercherò di elevare all'assessore. Noi chiediamo che ci possa essere un pronto soccorso H24, odontoiatrico, e questo è garanzia sia per il paziente che trova una risoluzione immediata al problema dell'acuzzi. Il dolore dentale è uno di quelli più tragici, diciamo. E nello stesso tempo potrebbe essere un ulteriore stimolo di occupazione per i neoloreati che attualmente vedono il sistema sanitario regionale e il sistema sanitario nazionale chiuso con poche figure che sono inserite. Quindi aspicchiamo un allargamento anche a fronte di un utilizzo H24 degli ambulatori. Del resto le nostre convenzioni della specialistica ambulatoriale lo prevedono, quindi è giusto che sia così.